Buongiorno, mi chiamo Giuliano Mei, vengo dalla Sardegna, precisamente da Iglesias in provincia di Caglia. Allora io sono venuto qua in Moldavia per curarmi i denti, riparmi i denti perché diciamo che è arrivata una certa età, ho avuto problemi di una malattia nei denti, quindi ho perso diciamo piano piano, perdevo i denti e avevo grandi sofferenze, quindi mi sono deciso e ho cercato di trovare un posto dove potevo rimettermi a posto i denti, cioè fare tutto quello che c'era da fare, quindi ho cercato su internet per vedere se trovavo dove rivolgermi con me e ho trovato su internet SOS Turismo Dentale. Quindi tramite internet mi sono messo in contatto con questa clinica e ho conosciuto un certo dottor Palmas che è sardo di Cagliari, con lui ci ho parlato, mi ha detto cosa dovevo fare, sono venuto qua in Moldavia. e ho trovato una clinica molto, diciamo, una clinica bella come clinica, molto specializzata e dei medici molto bravi. Quindi mi hanno messo, mi hanno visitato, ho detto cosa dovevo fare e poi ho iniziato il lavoro, diciamo. Allora, quindi ho iniziato le cure, mi sono trovato molto bene e dopo, diciamo, tre interventi abbiamo finito i lavori, mi sono rimasto molto soddisfatto dalla bravura dei medici e di tutto il complesso della clinica. Poi devo dire anche che la Moldavia è molto bella, non mi sarei mai aspettato di trovarmi un'accoglienza così grande anche nella mia prima esperienza, quindi avevo un po' di paura di andare fuori dall'Italia e provare una nuova esperienza. Però mi sono trovato tanto bene, mi sono rimasto soddisfatto del lavoro che mi hanno fatto e sono molto bravi, sia i medici che i assistenti che tutto lo staff della clinica, sono molto, molto, molto bravi. Che messaggio potrebbe portare in Italia? Allora, io per me direi a chi deve, a problemi come i miei, problemi seri, divenire in Moldavia, perché sono molto bravi e rimani soddisfatto, fanno dei bei lavori, sono molto bravi, molto professionali e quindi venite in Moldavia.